È quello che avrebbe fatto il governo di centrodestra se avessimo potuto avere un governo nostro, poi qualche dettaglio più, qualche dettaglio meno, perché qui conta anche quello evidentemente, ma prima o poi bisogna prendere una decisione. Se si vuole davvero limitare e far cessare questo continuo arrivo di migranti, la grandissima maggioranza dei quali non sono profughi, non fuggono da guerre, vogliono venire in Europa per star meglio e in Italia stanno sicuramente meglio di come stanno in quei paesi, specialmente come gli viene presentata loro la situazione dell'Italia. Ma oggettivamente vengono in Italia, sono spesati, sono alloggiati, sono vestiti, sono riforniti del necessario. E poi sperano forse di avere anche un reddito un giorno da poter aiutare le famiglie che lasciano a casa, tenendo presente che sono quasi tutti maschi e quasi tutti giovani. Per cui il punto è, l'unica ragione per cui vengono tante persone in Libia, che non è un bel posto in questo momento, specialmente per nessuno, tanto meno per questi migranti, se vengono da tutto il mondo in Libia, perché non è che arrivano dal confine libico, vengono dal Bangladesh, vengono dal Centrafrica, in posti lontanissimi e vengono in Libia è solo perché sanno che dalla Libia possono venire tranquillamente, più o meno tranquillamente in Italia. Al momento in cui scoprono che non è più così, questo traffico orrendo, schifoso... Cioè lei dice non partono più, quando capiscono che non è così semplice arrivare e restare... Esatto, sacrificare il piccolo patrimonio familiare, perché questa è la maggior parte dei casi, perché uno dovrebbe sacrificare il piccolo patrimonio familiare per arrivare in Libia, farsi qualche miglia e poi ritornare in Libia. Nessuno lo farebbe, tantomeno partirebbe dal Bangladesh, subire ogni sorta di abusi, dico il Bangladesh per dire un posto lontanissimo, per dare un'idea, subire ogni sorta di abusi, essere derubati, pagare comunque queste somme, se non per venire in Italia. Al momento in cui si capisce che in Italia, così come in Spagna fino ad oggi, la Spagna ha raccolto in questi anni, mentre in Italia sono arrivate 650.000 persone, in Spagna ne sono arrivate 43.000. Allora, se ci fosse stata in questi anni la stessa accoglienza in Italia e di quelle che c'è stata in Spagna, cioè quasi nulla, è evidente che queste persone non sarebbero partite, perché quando mai dovrebbe venire l'idea uno dall'Eritrea o dal Bangladesh di venirsene in Libia per poi venirsene in Italia? Lei ha detto sì, sostanzialmente siamo d'accordo e quello che avrebbe fatto Forza Italia fosse stata, no? Dettaglio più, dettaglio meno. Ecco, mi dice le differenze nei dettagli che in Italia... La differenza quando si governa, e questo è, sta governando l'attuale governo ovviamente, è anche magari nei contatti, ecco io non lo so quali contatti siano stati presi con gli altri paesi europei per spiegare la situazione, forse sono stati presi, forse non sono stati presi, non lo so, perché bisogna spiegare agli altri paesi europei qual è la nostra situazione. Ci sono queste navi... Ci sono svariati anni, diciamo, che tentiamo di spiegarla. Sì, però abbiamo ricevuto tante belle parole, sia nel senso di dire che bravi che vi siete presi tutta questa gente, sia nel senso, addirittura è stato detto da autorità europee, intendo dire dell'Unione Europea, o di altri paesi come la Francia, la Germania, hanno detto sì, l'Italia è stata lasciata sola, però continuano a lasciarci soli. Cioè se si continua appunto con questo modo, dove dicono, ma fintanto che se li prendono loro, va bene, fino a un certo momento... Lei avrebbe chiuso i porti, come ha fatto Salvini, rimandandoli indietro, aspettando in un parcheggio in mare qualcuno che aprisse l'ospitalità. Bisogna fare qualcosa per mettere fine a questo traffico, perché senza l'ultimo miglio, cioè nessuno pagherebbe il trafficante di droga se poi non gli dà la droga. E poi qua, dopo parliamo anche di tutta la parte... Lei dice, se sanno che non possono arrivare, restano a casa loro a difendere il loro piccolo patrimonio, ma poi c'è tutto il discorso del business, perché... Costerebbe enormemente di meno aiutarli nei loro paesi, ma mentre invece facendo così portiamo via quelli che si suppone siano i più energici, i più vigorosi di quelle persone che potrebbero stare nel loro paese e migliorarlo, e se ne vengono via lasciando le loro famiglie sola, non si capisce quale sia la situazione. Non si risolve il problema, si spende molto, ma molto di più di quello che si spenderebbe aiutare.